Un vecchio copertone è diventato una sorta di condominio per gamberi d'acqua dolce. Purtroppo non sono autoctoni, ma introdotti a scopo alimentare, sono fuggiti o sono stati liberati da qualche allevamento. E poi l'incontro con una lumaca e con bivalvi in passeggiata, ma sul fondo del lago. Siamo con Emilio grazie al progetto Lake Watching promosso dai gestori della Casa del Lago di Verbania, Proteus e Cooperativa Valgrande. Da una sala di Villa Giulia abbiamo seguito in diretta con video e audio il sub, grazie alla telecamera e a una maschera particolare con microfono. Siamo proprio sotto di Villa Giulia, siamo andati in direzione dell'isola in acqua davanti, adesso ci troviamo, vediamo se riesco a far vedere, su una profondità di quasi 6 metri. In azione anche un drone subacqueo e un secondo sub assistente, per sicurezza ma anche per regolare i cavi usati, non devono toccare il fondo, lo danneggerebbero. Una diretta particolarissima alla quale hanno assistito anche in una sessione precedente i ragazzi delle scuole, riflettori puntati in particolare sulle criticità legate alle variazioni climatiche. Si parla spesso di cambiamento climatico a livello globale, quindi quello che succede proprio a livello mondiale, a quali problemi stiamo andando incontro. E spesso non consideriamo le evidenze sul territorio e quindi la possibilità di fare scoprire il mondo sommerso del lago e quelle che possono essere le criticità legate alle variazioni di livello, per la variazione di precipitazioni, piuttosto che riscaldamento delle acque, ci serve per entrare in contatto con i ragazzi che sono tecnologici e quindi attraverso la tecnologia è ancora più semplice e capire anche che cosa ne pensano loro di questi cambiamenti e che cosa si può fare anche nel nostro picco, nella nostra quotidianità per migliorare la situazione. Uno degli obiettivi di questo progetto è mostrare cambiamenti climatici anche a livello locale. Che cosa si può dire rispetto a questo del nostro lago? Sì, che purtroppo non è esente da questo fenomeno, che è un fenomeno globale. In questo periodo dell'anno, si parlava proprio stamattina con i ragazzi che sono intervenuti, vedere una buona visibilità, ma questo primo tappeto di alghe che già inizia a manifestarsi è sintomo del fatto che è come se la primavera del lago fosse anticipata. Abbiamo visto un copertone, un pezzo di plastica, qualche boa, ma com'è lo stato di salute dal punto di vista dei corpi estranei? Nel complesso non male. Se pensate che siamo proprio dentro Verbania, in pochi metri d'acqua, dove tantissime persone passano, quindi nel complesso un buon livello di conservazione. È probabile che la coscienza delle persone sia aumentata nei confronti del rispetto di questi ecosistemi. Nostra premura dovrebbe essere sensibilizzare sia i turisti che i locali nel prendersi cura di questo ambiente e portare via qualcosa che nel lago non dovrebbe esserci.